Siamo tornati ragazzi, siamo tornati, buon lunedì a tutti quanti voi, stavolta da tre sedi differenti e non dal solito divano in quel di Erzog e Naurac, ormai ho imparato quasi, tra l'altro non eravamo lì, come sempre sei impreciso, ma se dico Erlangen poi confondiamo un po' la massa, se eravamo Erlangen non puoi dire che eravamo nel Erzog e Naurac, comunque ciao a tutti. Il direttore ragazzi è nato in Svizzera con questa precisione e rigidità, ciao Cri. Ciao ragazzi, ben ritrovati, ben ritrovata anche alla continassa che vedete, finalmente viene da dire, alle mie spalle, finalmente per voi, non per me, perché ci sono 35 gradi, però siamo qui e combattiamo sempre. Ragazzi, se qualcuno ha intenzionato poi a fare una donazione, anziché donare, mandatevi un Just Eat con dell'acqua fresca a questo uomo. Tra l'altro è già capitato, tu scherzi e ridi, è già capitato, tra l'altro quando arrivò il rider mi diede una busta vuota, ti ricordi Cri che avevo aperto l'acqua di niente? Ho detto, ma dove andavo a ordinare? Avevo ordinato tipo un acqua o un panino, apro e non c'era niente, il rider ha già scappato. Esattamente, l'abbiamo un po' rincorso, poi alla fine aveva la bici, noi a piedi quindi. Ma è che io posso anche andare per strada, ma più di mettermi in una risaia a vedere lavorare delle metri trebbia in questo momento. Sarebbe una bella scena però, Lello. Esatto, un po' Smallville quasi a momenti. Allora, oggi ragazzi è una giornata interessante perché è lunedì di ripresa dei lavori, dopo due giorni liberi, Mota quindi ha dato due giorni di assoluta libertà anche perché è stata una settimana abbastanza intensa sul piano dei carichi di lavoro, eccetera. Questa è la grande settimana dei rientri, ma oggi è una giornata importante perché, Cri, illuminaci, che cosa potrebbe essere successo, che cosa è successo alla Continassa? Si parlava tanto di Mota e Chiesa, parla a te. Allora, noi non sappiamo esattamente le parole che si saranno detti Tiago Mota e Federico Chiesa, sappiamo però che c'è stato l'incontro perché inevitabilmente oggi si sono ritrovati un po' tutti, si è ritrovato il gruppo degli epurati, tra mille virgolette, sappiamo che è un termine che non piace né al mister né naturalmente a Cristiano Giuntoli, però insomma i due gruppi si sono di nuovo compattati, uniti e hanno lavorato alle dipendenze di Tiago Mota. È inevitabile che un passaggio tra Chiesa e Tiago Mota ci sia stato, sappiamo più o meno quello che può essere il tenore del discorso, cioè Tiago Mota avrà detto a Chiesa che sicuramente non è centrale nel progetto bianconero, sappiamo allo stesso tempo che Federico Chiesa è più fuori che dentro la Juventus per questioni più contrattuali che tecniche, è vero non è un giocatore che fa impazzire il nuovo allenatore della Juve, però c'è un contratto con scadenza 2025 e quindi ci saranno offerte, ci sarà mercato e c'è la volontà soprattutto della Juventus di separarsi da Federico Chiesa. Quindi oggi sicuramente ci sarà stato l'incontro, ci sarà stato ribadito tutto questo, ma Chiesa già sapeva e il fatto che non sia venuto, viene da dire con noi, ma con la squadra, in Germania è stato un grande segnale perché c'era tutto il tempo per farlo arrivare all'Erzo Base e unirlo insomma al gruppo, soprattutto se appunto Chiesa fosse stato insomma centrale all'interno del nuovo progetto bianconero. Dunque oggi il primo incontro di fatto tra Tiago Motta e Federico Chiesa, Federico Chiesa al quale è stata confermata l'uscita di scena nei prossimi giorni, aspettiamo, anzi la Juve aspetta offerte con l'agente Falli Ramadani che in questo momento si trova in Inghilterra proprio per raccogliere gli interessamenti della Premier League, ma non solo. Direttore, qualcosa da aggiungere sulla precisa? Sì, aggiungo una sola cosa, che Chiesa tra i cosiddetti e purati è l'unico che fa gli allenamenti completi con il gruppo, quindi Chiesa non viene trattato come un calciatore che se ne debba andare fra un minuto, fa gli allenamenti completi, gli altri solamente nei segmenti, per gli altri intendo Artur, De Sciglio e compagnia cantante. Quindi cosa significa? Che Chiesa è, come ha detto Cristiano, un giocatore in uscita, ma a determinate condizioni. Queste condizioni le possiamo quantificare a 25 milioni. Quindi questo sarà il trattamento che la Juventus riserverà a Chiesa da oggi fino a quando rimarrà. Poi, noi non facciamo di messiere l'indovini, non sappiamo se può scatenarsi una nuova luna di miele, se Chiesa con il giusto atteggiamento si può conquistare un posto e si riapre il discorso contrattuale. Ad oggi vale quello che abbiamo appena detto. Chiesa si allena con il gruppo, interamente a differenza degli altri, e fa i ramadani nelle ultime 48 ore, come diceva giustamente Cristiano, è stato anche in Inghilterra. Quindi, vediamo se porterà delle offerte, qualcuno dice che il Chelsea potrebbe formulare un'offerta ufficiale. Vediamo, stiamo lì, monitoriamo, ma il quadro è questo. Chiesa finisce qua a Torino, se lena con il gruppo. Aggiungo anche un altro aspetto che forse per tanti è passato un po' sotto traccia, ma nel video social della Juve c'è anche Chiesa, quando passa nella famosa passerella. Sì, c'era anche Mattias sull'Edward prima che venisse venduto la Roma, non c'è niente sta roba. Sì, però non c'è niente. Conta che la società vuole mandare un segnale, cioè non è che i nostri giocatori in uscita li svendiamo, non siamo un supermarket, però è poco indicativo, perché anche su Sule è stata fatta la stessa cosa, ha partecipato alle attività effettuate alla Erzo Base e poi è stato venduto la Roma. Volevo arrivare qua, nel senso che la Juve secondo me vuol dare comunque l'impressione di non volerlo svendere, risulta comunque importante come giocatore. Ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci mancherebbe ragazzi. Non fatemi perdere la testa le lunedì, eh, che... No, no, perché te la faccio perdere l'occhio. Io ho visto l'Italia eliminata da tutto oggi le Olimpiadi e sono di catturale. Anche il tiro con l'arco di due minuti fa. Mi sono messo lì col tiro con l'arco, vedere la sfida con la Francia, e siamo stati eliminati malamente, perdere con la Francia non mi piace mai. Comunque sì, la situazione Chiesa è questa, diciamo che è una sorta di quieto vivere in attesa di sviluppo del mercato, però è anche importante sottolineare che lui, a differenza di tutti gli altri, i giocatori in uscita, si allena col gruppo. Lorenzo, grazie per esserti abbonato. Ragazzi, come ben sapete, per i abbonati ci sono dei contenuti in esclusiva, tipo la differita della live in primis, e ogni mattina il buon corbo dal lunedì al venerdì vi farà compagnia col podcast matutino e con la rassegna matutina, delle principali informazioni legate alla Juventus. Poi c'è il podcast del direttore nel fine settimana e un altro redazionale, per cui mi raccomando ragazzi, per più contenuti potete abbonarvi, e più avanti faremo dei format che vi vedranno coinvolti in prima persona. Allora, su Chiesa, quanto è complicata la situazione, che cosa vi aspettate adesso nei prossimi giorni? Io credo che questa situazione andrà a sbloccarsi quasi nel fine mercato. Addirittura. Eh, ho questa brutta sensazione. No, io onestamente non ce l'ho, secondo me anche Chiesa in questo momento vuole risolvere questo aspetto, questo problema quanto prima, e credo che queste 48 ore di Ramadan in Inghilterra possano, diciamo non definitivamente, però comunque dare una traccia di quello che sarà il futuro di Federico Chiesa, che, come sempre abbiamo detto, vuole fare insomma qualcosina in più, vuole raggiungere lo step successivo, quindi la Premier League per lui sarebbe importantissima, non avrebbe problemi a cambiare campionato, cambiare paese, anche per questo ha messo in stand-by la prima provostella Roma, poi successivamente il Napoli, quindi Chiesa è aperto a qualsiasi eventualità. E' chiaro che all'inizio soprattutto aveva messo al primo posto la Juventus, una volta che viene ribadita l'intenzione della società di andare verso la cessione, se appunto non dovessero esserci spiragli per il rinnovo, potrà solo accelerare in direzione uscita, ma saranno proprio determinanti le offerte che arriveranno, o comunque che si costruiranno in questi giorni. L'altro va aggiunto anche una cosa, Cri, che strategicamente con l'accessione di Sulea alla Roma, tu togli un altro acquirente, un potenziale acquirente per Chiesa, non è che ne rimangano tantissimi in Italia in questa sessione, perché sottolineo in questa sessione? Perché se Chiesa dovesse arrivare a parametro zero, cosa da evitare in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, a zero è una bella soluzione per tutti. Però in questa sessione quante squadre potrebbero avvicinarsi a Chiesa dall'Italia? Potenzialmente il Napoli se dovesse avere dei problemi con degli esuberi? Io non vedo. Quello che voglio dire è che tramontata definitivamente anche l'ipotesi Roma, perché lì non ci andrà mai più, considerando che ci sia andato Sulea, resta solo l'estero. Resta concretamente l'estero. Il Milan sta facendo fatica per Fofanaghe, la tirano per le lunghe. Poi Milan ha tanti esterni, ha sale makers, cioè a meno che non vadano in porto delle cose che ad oggi non vediamo minimamente, anche a livello di tracce, è ovvio che sia l'estero il percorso su cui lavorare, e non è un caso che fa lì Ramadani sia stato due giorni a Londra. Però poi, aggiungo io, servono anche delle offerte concrete. Un amico prima sottolineava che secondo lui al 29 di luglio fossimo in ritardo. Non siamo in ritardo, perché comunque il Juventus ha già fatto 5-6 operazioni in entrata e altre cose in uscita. Semplicemente siamo alle prese con una situazione molto caotica, ma questo lo sapevamo dal momento che siamo rivoluzionati interorganico. Ma Chiesa, e qui invece vengo al quesito che hai posto tu prima, Lello, non è un argomento che puoi definire, a mio modo di vedere, il 28 agosto, il 27 agosto. Cioè, avere o non avere Chiesa, ti sposta la programmazione e la costruzione di una squadra. Sono d'accordo. Non è che lo puoi trattare ora come se fosse De Sciglio. E infatti, cosa abbiamo detto? Che è l'unico in uscita, potenzialmente in uscita, che si allena con la squadra. Guarda, io sono molto d'accordo con te, Roma. Il mio è più un timore, piuttosto che è un'analisi basata su quella che è la situazione. Perché quando sento il Chelsea, che ha 43 giocatori, inizio a strecere il naso sul fatto che possono avanzare delle offerte concrete. Il Tottenham anche. Boh, ad oggi le squadre che sono state menzionate, tra quelle potenziali papabili, che possono accaparraresi il cartellino di Chiesa, non mi danno quella convinzione. Poi speriamo che arrivino e a questo punto, pur di perdere da zero, preferisco che vada, rinunciando qualcosa a noi, sul cartellino, che vada direttamente all'estero. Però qualche perplessità ce l'ho. Tu Cri hai qualcos'altro da aggiungere su Chiesa? No, soltanto che si sta allenando, mi diceva Rome, con il gruppo. Si sente ancora parte del gruppo che è tornato, ci dicono comunque, con tanto entusiasmo, ma anche tanta voglia di capire il suo futuro. Per il resto non ci sono grosse novità, perché sappiamo le difficoltà che sta attraversando la Juve dal punto di vista anche del mercato in entrata, che con le ultime due uscite comunque dovrebbe essersi sbloccato. E poi sicuramente parleremo di Todiboh e Cobb Miners. Diciamo che in questo momento si sta anche lasciando un po' il passo al giocatore, cioè il giocatore che deve dire, ok, finalmente ho trovato la soluzione a tutti i miei mali, per usare una metafora, però è chiaro che la Juve ha fatto un prezzo, che è quello che diceva Romeo, 25 milioni di euro, quella è la base di partenza per il club bianconero. Tutto il resto può essere effettivamente nelle mani di Federico Chiesa. Una breve parentesi invece sui ritorni. Avete qualcosa da dire? Stasera già dovrebbero rientrare alla base, domani abili e arruolabili i brasiliani. Sì, intorno alle 20 dovrebbe rientrare Douglas Lewis con i brasiliani, Kenan Hildiz poco prima, ma insomma dovrebbero poi, anzi domani dovranno effettuare i test al Geomedical per poi mettersi a disposizione di Tiago Motta, Tiago Motta che finalmente avrà il gruppo al completo, perché questi sono gli ultimi rientri post Copa America ed europeo, quindi da stasera barra domani si completa la Juventus in attesa del mercato. Rome, ti chiedo, col Brest secondo te è fattibile vedere anche questi ultimi arrivati o secondo te sarà un po' più complicato? Mi sembra un po' Brest, sinceramente, considerando, no, magari qualche minuto sì, però sulla falsariga di quanto ho visto con Blaovic e gli altri a Norimberga, non possiamo meno rischiare di farci male, noi dobbiamo mettere nel mirino la partita con il Como, conta quella, fine. Però sì, d'altra parte, aspetto al primo tempo in Norimberga, vedremo sicuramente una Juventus meno sperimentale, con più big che avranno sette, otto giorni in più di lavoro e quella sarà un'amichevole un po' più indicativa che poi sarà propedeutica al binomio suida all'Alleanz in casa, in famiglia e poi la gara con l'Atletico Madrid in Svezia. Però complessivamente non ho avvertito, parlicchiando qua e là ieri, anche se poi, come ben sapete, mi stavo riprendendo da delle giornatacce lavorative, non ho avvertito minimamente una Juventus, come posso dire, preoccupata dalla partita con il Norimberga, men che meno preoccupata dagli sviluppi del mercato, una Juve molto concentrata, lo che deve fare, cercherà di farlo e bisogna arrivare alla gara con il Como nella miglior condizione possibile in termini fisici, tecnici, tattici e di allestimento rosa. Intanto ringrazio Palaz per la donazione. Ragazzi, poi rispondiamo anche alle vostre domande nella seconda parte. Sì, perché tra un quarto d'ora liberiamo Cristiano, ci denunciano. Eh, esatto, ci denunziano per abbandono. E vi dico i tre ragazzi che hanno colpito un po' di più Tiago Motta, Norimberga. E che si alleneranno in pentastabile in prima squadra. Riottimo, quindi una notizia sull'altra. Giare che c'è, ovviamente intendo. Chiaro, chiaro. Miretti, argomento caldissimo. Questa botta qua non ci voleva. E io vi pongo una domanda. A voi poi raccontate un po' che cos'è successo, tempi potenziali di recupero, perché poi sono molto soggettivi, ovviamente. Sappiamo che per la calcificazione ci vuole un mese, ma poi tutto il processo di riatletizzazione richiede il suo tempo. Ah, anche medico ora, lei. Cazzo, mi sono informato. È arrivato il professorone. Esatto, perché mi informo io. Non è che vado a dire bagianate. Sì, un mese circa per la calcificazione e poi c'è il processo di riatletizzazione. La cosa che rosico è che Miretti, secondo me, nella testa di Motta, iniziava ad essere centrale in tanti discorsi tattici e in quella che è la sua idea di gioco. Il punto è, perdere anche le prime tre potenzialmente del campionato dovrebbe necessariamente accelerare un processo di acquisto del nuovo trequartista. Cioè, noi parliamo di Copp, lo rinviamo, lo rinviamo, lo rinviamo, ma il backup unico che va a Mirrosa probabilmente è Azic barra Miretti. Azic barra Miretti. Ecco, forse qualcosa lì va fatta. Chiedo a voi, però. Sì, sono assolutamente d'accordo. È stato proprio il primo pensiero che ho avuto quando ho letto il comunicato su Miretti. Ripetiamo, insomma, problema al piede, trauma contusivo che poi si è scoperto essere frattura composta al piede destro e effettivamente i tempi di recupero sono quelli, un mese, ma molto di più, cioè, molto di più, comunque di più rispetto alla prima previsione e molto probabilmente salterà anche le prime tre di campionato. Dunque, si parla di rivedere Miretti a metà settembre, stiamo neanche a inizio agosto. È chiaro che questa è una botta non da poco per Tiago Motta che aveva parlato di Miretti molto molto bene in conferenza stampa, aveva parlato di responsabilità firmata con il rinnovo da parte del giovane bianconero e poi avevamo visto anche contro il Norimberga, era lui l'uomo tra le linee a supporto anche dell'attacco. E la sensazione in attesa di Coppa è che potesse essere lui effettivamente il titolare contro il Como comunque nelle prossime partite. Di sicuro verrà responsabilizzato ulteriormente Azic, perché abbiamo visto anche fisicamente può reggere certi ritmi e certe situazioni. Ma poi bisogna naturalmente accelerare per Coppa e arrivare anche a stringere questo accordo, comunque a ridurre la forbice che in questo momento c'è della distanza tra Juventus e Atalanta, perché l'Atalanta fa un prezzo, la Juventus chiaramente ne fa un altro e quella è la fase di stallo alla Messicana, perché da una parte c'è la Juve, da una parte c'è l'Atalanta, in mezzo c'è il giocatore che vorrebbe però andare a Torino. Tornando a Miretti, non ci voleva, secondo me anche lui, l'avevamo visto un po' diverso nella partita con il Norimberga, si era preso appunto responsabilità, voleva sempre la palla, era un giocatore che comunque iniziava a carburare anche dal punto di vista fisico-atletico e adesso bisogna un po' ripartire da zero perché comunque ti fermi a inizio della preparazione dopo due settimane di lavoro ci sarà da fare anche quella parte atletica supplementare per tornare subito ai livelli dei compagni. Contrasto. Conica, un trauma, può essere un pestone, può essere un contrasto. Un contrasto in allenamento, ho subito visto il problema, avete visto, subito l'infortunio, cosa c'entra? Non è una roba in natura muscolare, ti alleni, capita scontro, contasi quant'altro, dai su, facciamo le persone mature. È da mettere in conto. Sembra subito che, sembra il tritto mietitore, quello che non aspetta nient'altro che arrivi la salma, per dire, ci si allena, delle botte, il contrasto, purtroppo è stato sfortunato, ma fortunato nello specifico perché sarebbe potuto andare molto peggio, mi dicevano oggi, da zona juve. E aggiungo invece che secondo me l'assenza di Miretti in chiave mercato è molto in questa fase impattante perché, comunque, Miretti nel 4-2-3-1 di Norimberg è il titolare trequartista. Ad oggi, se vuoi giocare così, hai più soluzioni, ma sarebbe tipo lui il titolare in attesa che, speriamo, arrivi i copp-mainers. Quindi, non è l'assenza di poco conto, eh? Poi, in quel ruolo, può giocare anche fagioli, secondo me, lo stesso Azic, se lo vedi già, sveglio subito, puoi studiare altre soluzioni, sicuramente Tiago Motta avrà già in testa piano A, B, C, D, sperando che però, magari con il Como, lì giochi cop-mainers, ecco. Però, non è una roba, ecco, Alberto ha scritto, cioè, ci stiamo preoccupando di Miretti, ma per favore, io sì, mi preoccupo di Miretti, perché ora, da quel punto di vista, là davanti, noi, ad oggi siamo contati, siamo contati, e, e quindi, Tiago Motta, su di lui, ha fatto un ottimo lavoro, dal punto di vista fisico, tattico, in questo preciso, non ci voleva questo infortunio, in maniera più assoluta, anche perché, stiamo bassi, base di partenza è un mesetto, ma si va a salire. Grazie, Matteo, beh, non lo so, te lo dirà Cristiano, visto che lui là in, in zona, ma credo che non possa scalfire questo 3-0, con l'immediato, con il Norimberga, questo entusiasmo. No, 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 si respira ancora, non nei numeri dei tifosi, perché poi, sapete, ci sono anche, eh, 30 gradi di mattina, e 35 il pomeriggio, quindi, magari, non è proprio l'idea più sana, andare alla continasse, aspettare i giocatori sotto il sole, però, eh, l'entusiasmo generale, si percepisce, vediamo tante persone, sempre, tra stadium e museo, da questo punto di vista, tutto quello che ha generato, e portato, l'annuncio di Tiago Motta, resiste, ecco, nel tempo, e sicuramente, l'amichevole di Norimberga, non, non l'ha spostato. È chiaro che, comunque, rispetto a prima, dove, eh, annusavamo soltanto, appunto, questo entusiasmo, adesso ci sono un po' di dubbi in più, perché, inevitabilmente, il campo ha parlato, e tutti abbiamo realizzato, che comunque, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da cambiare, c'è tanto da, da modificarla, proprio la, la Juventus, sia negli uomini, sia nelle dinamiche, cioè, è proprio, estirpare l'allegrismo alla radice, e cambiarlo, piantare un seme nuovo, e chiaramente, ci vuole tempo, perché il seme diventi albero, e poi, dia il frutto finale, dunque, da questo punto di vista, è stata più una presa di coscienza, da parte del mondo Juve, che è un abbattimento dell'entusiasmo, ecco. Posso fare un intervento, a gamba tesa, stavolta, ce l'ho un po' con tanti tifosi, perché ho letto dei commenti, disgraziati, per non dire altro, per usare veramente, delle belle parole, nei confronti di Miretti, io capisco che Miretti, possa essere discutibile, soprattutto sul rendimento, dell'anno scorso, ma quest'anno, era stato dichiarato, appunto, centrale per Motta, importante, godere per un gusto personale, scrivendo una cattiveria, non fa del bene, né al ragazzo, e anzi, vi qualifica male, 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 male. E quindi, quando ho letto tanti commenti, sotto il post della Juve, sotto il post, insomma, che riportavano la notizia, eccetera, un po' di disgusto, qualcuno me lo ha creato, ecco, ci tenevo solamente, a dire, a dire questa cosa. Il programma invece, Cripper, oggi, all'allenamento della squadra, come è stato stamattina, e come continuerà? Si prosegue sempre allo stesso modo, cioè, la mattina, tanto lavoro tattico, anche di palla, pomeriggio, soprattutto palestra, la sensazione è che comunque, la squadra adesso, debba rimettere benzina, per poi arrivare pronta, sia all'amichevole, chiaramente, di Pescara, sia, poi, naturalmente, al campionato. Quindi, si riparte con i carichi, che si riparte con Colinè, super protagonista, anche delle prime giornate, e pian piano sarà, anche normalizzato, tutto il lavoro. Vedremo da domani, la curiosità, appunto, è come ripartiranno, i brasiliani, insieme a Ildiz, perché comunque, ci sarà tante parti atletiche, abbiamo visto anche in Germania, dopo il pallone, dopo il gruppo che lavora, poi c'è il lavoro a secco, come lo chiamava anche, Alessio Dacchinardi, cioè, le ripetute, le corse, mettere quel fiato che serve per reggere i ritmi di Tiago Motta, quindi al mattino si lavora normalmente, insomma, una seduta tra campo e anche, soprattutto, una lezione tattica da parte di Tiago, e poi nel pomeriggio si recupera un pochino e si fa allenamento di forza. In tanti ci chiedono, ci chiedono di Shesney, Shesney in smart working, quando troverà la sistemazione, lo saluteremo, non sarà il Monza, perché oggi, Fabrizio Romano ha scritto l'accordo con Keylor Navas, tra Varane, Keylor Navas e magari De Gea al Genoa, mi sembra che il caldo stia facendo impazzire un po' la serie A, ma è bello che sia così random, e tra l'altro il Monza potrebbe prendere anche consigli, come dice, quindi, credo che possiamo depennare definitivamente il Monza, dove andrà Shesney, ad oggi è in smart working, gli sono state allungate le ferie e ovviamente dietro il placcio della Juve. Qualcuno dice l'ultima storia di Hildiz, mi sembra una volta in forma, aggiungo anche Bremer, ragazzi, ha un fisico statuario. Mi ricorda un po' il tuo, avendoti visto bene a Erlangen, in certe... Potrei dire altrettà, sei ben messo, cioè, rispetto a me sicuramente sei ben messo, ma... Diciamo che non è il nostro punto di forza. No, no, parla per te. Oddio, oddio, quanto sei confidente. Cri, noi, secondo me, possiamo lasciarti andare, salvo il direttore, non abbia qualche richiesta da farti, perché altrimenti veniamo a raccoglierti con un carrello. No, dai, lo congediamo, perché sastera Cristiano cercherà di catturare le prime immagini da Glass a Torino, mi raccomando, ti ricordo di cambiare il formato di video. Grazie mille, Cri, bagnati la testa, bevi tanta acqua, mangia tanta verdura e ci risentiamo. Metti il ventilatore al massimo, mi raccomando, e rinfresca, ti le idee subito. Ventilatore in faccia, così domani non avrò la voce per la diretta. Sono sul pesce, e mando malattie. Il direttore, idratazione massima è che si rischia poi di perdere qualcosina quella, altrimenti... Esatto, la cremina è tutto quello che mi avete insegnato in Germania. Ho imparato a essere uomo, ragazzi, quel genere. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie! Ciao, ciao!